ragazzi mi raccomando per chi volesse premiare oppure sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi con un semplice click ed attivando la campanellina ora è scoppiata diciamo la bomba lautaro anche se è un termine messo in questo periodo da un po pesante ma comunque usiamolo penso non ci siano problemi ad usarlo in gergo calcistico la bomba lautaro perché il suo procuratore dice delle cose molto ma molto pesanti la gente si arrabbia con il procuratore ragazzi ma il procuratore fa il suo lavoro quindi non ci vedo nulla sinceramente di strano in quello che dice camano vuole restare all'intera vita ma deve essere pagato per quello che vale ormai è paragonabile a mbappé e holland problema che mbappé e holland bisognerebbe dire il procuratore di lautaro non giocano in italia eh giocano in un campionato molto più ricco dove dalle stelle dagli stessi diritti tv ci sono molti più introiti quindi lui fa capire e blaovic praticamente quest'anno arriverà a guadagnare 12 milioni e non vede perché non le debba guadagnare il suo assistito quindi lautaro ancora due anni di contratto questo significa che ci sono due anni per definire la situazione eh lunga trattativa lautaro rispetto a quando rinnovato l'ultima volta è ancora più speciale per i neri azzurri quindi vedi lo sta ovviamente portando su la sua realtà per l'intera assoluta ma si deve parlare di che il giocatore sia diventato oggi se per tutto il mondo è paragonabile a un holland o un mbappé si deve partire da qui il problema è che holland e mbappé e prendano trenta milioni caro camano e trenta milioni in italia è impossibile prenderli quindi i tifosi dell'inter sono un po' diciamo eh frastronati cioè lautaro ha un'altra offerta lautaro vuole rompere ne sto ne sto sentendo di ogni io ti dico che lautaro quest'anno soprattutto ha migliorato e migliorato tantissimo ha migliorato la postura gioca molto di più a testa alta corre molto meno a vuoto e anche se a livello fisico secondo me ha perso un po' di velocità perché sia un riservo bustito un po' troppo è un grandissimo giocatore su quello nessuno ha nulla a dire cioè non non è non è discutibile il fatto e sia un grandissimo giocatore però attenzione a queste richieste perché io vi devo una cosa ragazzi come io non mi sono affezionato al zang e come non mi sono affezionato ai giocatori dell'inter io rimango solamente affezionato proprio a lei io rimango affezionato solo ed esclusivamente all'inter perché i presidenti e i giocatori passano se poi ti devo fare un'analisi completa a 360 gradi io ti dico che con queste richieste in via prospettica tenere lautaro sarebbe un problema perché ti crea degli scompezzi tutta la rosa perché se lui comincia a chiedere 12 13 e poi mi capisci che tutti vanno a bussare alla porta e l'inter con gli gaggi deve stare attenta non meno di tre settimane fa in questo canale fu detto che anche con un'altra proprietà anche con il passaggio da autri sarebbe potuto partire qualche giocatore almeno che l'inter non non riuscisse a raggranellare una settantina di milioni quindi ci sta che uno parta ripeto noi l'abbiamo detto tre settimane fa lo disse lo stesso alessandro g in una live quindi o con le varie cessioni cessioni riescono ad arrivare a 70 milioni oppure qualcuno è probabile che che parta perché ragazzi siamo sempre lì io lo dico a quelle volevano ancora i cinesi in questa situazione economia purtroppo sono valutazioni e bisogna fare ti chiede 12 milioni è vero può c'è bisogna dire la cosa anche dall'altro lato a favore dei ragazzi ottenete 12 milioni capo annonieri della serie a campione del mondo l'anno scorso ha contribuito ha fatto arrivare in finali champions league è sempre uno dei milioni in campo 12 milioni in italia sono troppi ma all'estero sono pochi perché all'estero giocatore ma lui ne prendono 20 parliamoci sinceramente ragazzi e questa è la situazione ma io dico una cosa ma se ovviamente lautaro parte per per un'offerta monstre ma solo un club con potenzialità economiche monstre può prendere lautaro dall'inter ma se venisse fuori 130 140 milioni ci prendi zigzei gutmuzzo non lo so morata sesco c'è un giocatore a me piace tantissimo che si chiama sesco con tutto rispetto per lautaro martinez io continuo a tifare inter non mi metto a piangere se mi fai una rosa di attaccanti in questa maniera perché con 120 milioni ci prendo tre attaccanti e mi avanzano capisci vuole il discorso perché tanto se poi le valutazioni e le posso aprire le rispetto da parte del giocatore sono prettamente economiche a quel punto noi le armi che abbiamo e sono pochissime ci rimane l'amore ma non sempre vecchio uno zanetti non sempre vecchio un totti non sempre vecchio un giancarlo antonioni che rimangono lì per amore cioè capito ci sono dei giocatori che guardano giustamente anche i soldi perché sanno che la reale è breve e cercano di racimolare più soldi possibili lautaro è sempre stato molto sensibile ai soldi molto sensibile perché la sua famiglia lo cresce investe tutto su di lui per farlo diventare un calciatore e lui l'ha sempre detto io la voglio ripagare la mia famiglia ma ma ci mancherebbe io non lo ritio ognuno fa quello che vuole però ecco se va via lautaro fa un esempio 120 130 mi prendi zigzag gudmutzon e mi ci metti anche morata accanto d'esperienza non mi strappo a pelli capisci che ti voglio dire quindi vediamo come va io la vedo difficile perché sta chiedendo tantissimi soldi ma ripeto per in italia sono tanti e all'estero sono poi perché i giocatori come lui all'estero guadagnano 20 milioni 10 milioni all'estero e le piglia costoli alfonso davis al bayern monaco prende 9 milioni fare un esempio questi in queste top squadre d'europa e lui ci può stare in una squadra top d'europa a prendere 20 milioni e vuole far gol la butta dentro è fortissimo lautaro quindi ragazzi mi avete chiesto la mia e che ti devo dire ti dio questo vediamo che succede io ti fo l'inter io voglio bene all'inter te lo ripeto io non mi affeziono né ai presidenti né ai giocatori poi c'è un presidente che è nel cuore che è massimo moratti è venuto fuori e sembra che il lion rock eh ci siano anche i soldi di moratti poi ne parleremo nel prossimo video nella prossima live che faremo a breve però ecco a me nel cuore rimane solamente l'inter ciao ciao grazie a tutti